Le disaventure di Angelino, Angelino, Angelino! Io ho chiesto al capo della polizia, al capo del dipartimento, cioè della pubblica sicurezza, una riorganizzazione complessiva del dipartimento della pubblica sicurezza Ma tu non sai di che cosa si tratta? A cominciare dal vertice del settore immigrazione, cioè della direzione centrale della immigrazione. Ho accettato, e l'ho fatto con profondo rispetto per la sua carriera onorabile, di brillante funzionario dello Stato Ho accettato le dimissioni del mio capo di gabinetto E ho proposto l'avvicendamento del capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza Andrà a finire come al solito, si caccerà in qualche brutto pasticcio Sono qui per riferire di una vicenda della quale non ero stato informato Della quale non era stato informato nessun altro collega del governo Della quale non era stato informato il Presidente del Consiglio E sono qui per riferire attraverso la relazione finale dell'inchiesta interna condotta Come e perché questo sia potuto accadere E cosa occorra fare perché ciò non abbia ad accadere mai più Lo vedi in che guai ti sei messo? Ma non piangere Per fortuna ci sono qua io Io? Super Trim?